Il dipartimento di lingue, letterature e culture straniere ha una forte impronta internazionale e l'ho scelto per via dei suoi sistemi didattici altamente innovativi come il laboratorio, tra cui il laboratorio teatrale, oppure anche per gli scambi internazionali come il progetto Erasmus e il progetto di mobilità internazionale che permettono agli studenti di andare a sviluppare le conoscenze linguistiche apprese all'università anche direttamente all'estero. Nel dipartimento ci sono due lauree triennali e due lauree magistrali. Una parte dell'offerta formativa è dedicata allo studio delle lingue e delle letterature con un'impronta soprattutto per la didattica e la traduzione. Le altre due lauree invece sono dedicate alla mediazione e soprattutto all'apprendimento delle lingue e delle relazioni internazionali. Ed è dedicata soprattutto alla mediazione linguistica e culturale. Il ricordo più bello che ho del mio corso di laurea è, forse sarò banale, ma è il giorno della sua conclusione perché il giorno della mia laurea è stato penso uno dei momenti più belli della mia vita e sono sicura che anche l'ambiente in cui mi sono laureata con i professori e soprattutto le materie che ho studiato mi hanno aiutata moltissimo a diventare la persona che sono adesso.